buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andiamo a vedere un progetto che si dedica a block chain game e al metaverse la particolarità è che gira sui protocolli di polka dot e kusama protocolli dove questo comparto è ancora molto acerbo quindi merita la nostra attenzione merita di essere inserito tra i preferiti per poi vedere gli sviluppi futuri e come andrà a implementarsi questo ecosistema all'interno di questa catena mi raccomando come dico sempre ragionate sempre con le vostre idee e con la vostra testa fate le vostre ricerche prima di depositare qualsiasi tipo di fondo nella finanza decentralizzata o nella finanza tradizionale utilizzate questi video come dei contenuti palapunte educativi dove vi mostrano l'esistenza di alcuni progetti di alcuni protocolli che meritano magari un approfondimento personale diffidate da tutti coloro che vi dicono che questi progetti sono sicuri e che vale la pena effettuare un investimento perché nessuno può veramente sapere come si svilupperà un progetto andiamo a vedere che cos'è nero verse ovviamente dopo la sigla davvero pochissimi progetti ancora per quanto riguarda il metaverse il game in play to earn sulla chain di polka dot perché in realtà polka dot non è ancora veramente terminata come progetto e come ecosistema in questo caso nero versi in versione beta è un ecosistema metaverse di giochi play to earn collezionabili ed esperienze virtuali multi chain sarà totalmente cross chain ogni nft che troviamo all'interno di questo ecosistema è un effetti è un nfp programmabile e quindi un vero e proprio item all'interno dei videogiochi che si va a creare e queste nfp possono servire addirittura scopi diversi in base al gioco a cui stiamo giocando e al gioco in cui facciamo entrare questi nfp all'interno di nero verse avremo anche un marketplace dove sarà possibile acquistare vendere e fare trading dei nostri connezionabili questo ecosistema mira a lanciare dei videogiochi a tripla che si potranno giocare tramite pc mobile e dispositivi di realtà aumentata e si sforzerà di fornire all'utente finale una buona grafica è un'esperienza di gioco ad alti standard qualitativi ovviamente trattiamo l'argomento perché sono giochi play to n su blog chain dove ci sarà la possibilità di guadagnare dei token o degli nfp è tutto questo alle spalle troviamo game power game power network è una block chain decentralizzata focalizzata alla pubblicazione di videogiochi play to n praticamente un game studios su kusama e polka dot e si occupano di fornire dei servizi ben specifici a chi vuole creare dei videogiochi all'interno di questi ecosistemi e queste immagini si può vedere nero verse con l'inter polarità con solana polygon e tirio moon bin a cala attualmente il team è formato da una piccola squadra però questo non deve essere un punto negativo perché come detto nero verse è ancora in beta e stanno sviluppando tantissimo pur essendo solamente in due e ovviamente stanno cercando di incrementare la squadra ovviamente è un progetto come se fosse in pre lancio ovviamente da tenere nel merino tra i preferiti per vedere come si evolverà tenendo conto che non è un consiglio finanziario ovviamente proprio per la sua versatilità e la possibilità di interpolarsi con diverse blog chain nero verse vuole puntare ad essere il punto d'incontro e che andrà a unire tutti i metaverse in un'esperienza coesa tra giocatori artisti in game designer appassionati di nft e cripto valute la prima esperienza virtuale si tratta di nero heroes un avatar game dove si ha la possibilità di personalizzare il proprio avatar e ogni oggetto sono dei veri nft gli eroi di nero heroes sono degli nft degli avatar nft completamente in tre dimensioni completamente personalizzabili e possono essere utilizzati in diversi altri giochi quindi noi creiamo il nostro avatar poi con nostra avatar potremmo partecipare a diversi giochi non per forza collegati tra loro la seconda esperienza è nero pets dove ovviamente sono degli animaletti nft collezionabili e anche queste in tre dimensioni dove si possono allevare cambiare far accoppiare per generare dei cuccioli e ovviamente essendo un gioco play to earn far combattere tra di loro alcuni nero pets sono già stati lanciati sotto forma di nft anche se il gioco non è ancora stato completato per entrare in nero verse ovviamente bisogna creare un account e possiamo appoggiarsi al wallet phantom di solana ho fatto un video dettagliato sull'utilizzo di questo wallet non custodia molto similamente a mask ve lo lascerò a fine di questo contenuto se non si vuole usare il wallet phantom di solana si può utilizzare anche il portafoglio non custodia al di polka dot il js questi traghetti saranno utilizzati nel prossimo gioco in uscita che si chiama dragon battle arena inoltre questi traghetti verranno utilizzati anche in un altro gioco che presto verrà annunciato che si chiama nero versus rpg un'altra esperienza sono i nero bots e va a racchiudere l'intera intelligenza artificiale programmabile dietro gli nft dove con le nuove tecnologie si può praticamente inserire e programmare una personalità dietro ogni nft e in questo caso sono diventati dei compagni digitali dei nostri avatar infatti non sono altro che dei compagni di viaggio robot nft che seguiranno il nostro personaggio il nostro avatar potranno addirittura esserci d'aiuto con dei consigli in game o semplicemente fare dei commenti divertenti a seconda delle situazioni che ci succedono come vediamo nell'immagine saranno dei robot volanti e saranno totalmente personalizzati e personalizzabili e attualmente questo progetto sembra ad essere uno dei pochi e anche il migliore che può uscire su polka dot per ora sicuramente con l'evolversi della block chain di polka dot e kusama ne nasceranno di altri o addirittura migliori o altri che nasceranno proprio all'interno di nero verse e nel suo ecosistema l'ecosistema di polka dot ci sono buone probabilità che giocherà un ruolo importante all'interno dell'ecosistema dei vetro vers proprio per la sua scalabilità ma l'altra caratteristica che ovviamente è la catena di interpolarità con tutte le altre block chain quindi torna ripetelo mettete nero verse nei preferiti in benza obbligatoriamente comprare gli nft stiamo a vedere come si evolve questo progetto appena nato quale saranno le funzionalità future eventuale token annesso e se tutto va come speriamo debba andare interemo ancora parlare di questo progetto mando per un attimo a parlare di game power alla block scene decentralizzata che sta alle spalle di questo progetto e di tanti altri progetti che nasceranno su questi ecosistemi vediamo per un attimo la road map nel q1 2022 game power public test net nel q2 game power sdk beta e subito dopo il game power token sale da segnare anche questa come data da monitorare insieme a nero verse perché l'ecosistema di game power che andrà a creare sempre su usama e polka dot potrebbe essere un qualcosa di interessante nell'anno 2022 che ormai è alle porte 2021 un anno scoppiettante per il game in play to earn e per il metaverse e ancora di più se continuano ad esserci delle importante novità sicuramente anche il 2022 2023 potrebbe essere un grandissimo trend bene siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento e spero che il video sia stato utile l'abbiate trovato interessante mi raccomando iscrivetevi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto per supportare il mio lavoro è veramente un'azione che va a implicare mezzo secondo della vostra attività online ma per me è veramente un grande grandissimo regalo e inoltre se avete voglia vi ricordo che abbiamo una community telegram al quale potete accedere cliccando sui link in descrizione vi ringrazio di cuore per l'attenzione come sempre vi auguro ancora buone feste e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti